Mi sento di rassicurare i cittadini oltre 80 anni che sono quelli in carico alla medicina generale. Da circa un mese in Toscana le persone con più di 80 anni saranno contattate personalmente dal proprio medico di famiglia che comunicherà a loro il giorno e il luogo della vaccinazione. Una rassicurazione sulla campagna vaccinale arriva anche dalla dottoressa Paola David, vicepresidente dell'Ordine dei Medici che nonostante le grandi difficoltà organizzative nel paese, conferma che a Pistoia si sta facendo il possibile per rispettare i tempi, arrivo dei vaccini permettendo. Il medico di famiglia chiamerà tutti i cittadini che sono rientrati per età nella lista che noi traiamo dalle anagrafiche regionali. Si parte dai più vecchi e si scende via via. A noi è possibile prenotare ogni venerdì per il momento da 6 a 18 vaccini. Con l'aiuto del volontariato e la partecipazione di tutti i medici di famiglia, gli anziani oltreottantenni saranno garantiti nella vaccinazione. I tempi purtroppo non dipendono da noi, ma come spiegavo, da questo approvvigionamento di vaccini a numero di 6 per fialetta fino a un massimo di 18. I vaccini sono stati dati in questa dose. Io auspico che in un futuro l'approvvigionamento sia più massiccio e quindi si possa stringere i tempi. Per le persone aventi necessità di trasferirsi dalla propria abitazione all'ambulatorio del medico dove verrà effettuato il vaccino, gratuitamente verranno portati dall'ambulanza o dal mezzo attrezzato. Stiano tranquilli gli anziani, verranno chiamati dal proprio medico, quindi non avranno come le altre categorie da prenotarsi sul portale prenota vaccini, ma ci sarà il medico di famiglia che li contatterà e gli dirà l'orario, il luogo e la data dove dovranno venire.